buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di pixart un'applicazione che permette di editare foto e video e di creare contenuti da postare sui social ma di creare anche molti altri contenuti come poster volantini brochure e così via pixart è un'applicazione web ma è anche disponibile per android ios quindi può essere installata sul proprio smartphone ed è disponibile anche in versione desktop però solamente per chi ha windows come sistema operativo l'applicazione può essere utilizzata anche senza effettuare la registrazione ma per salvare o esportare i propri progetti è necessario effettuare poi la registrazione oppure il login le operazioni che pixart permette di svolgere sono moltissime le possiamo vedere andando sulla sezione editing tools o sulla sezione design quindi l'app permette di editare foto e per esempio permette di rimuovere lo sfondo migliorare l'immagine creare collage o di editare anche video creando slideshow aggiungere audio testi e sottotitoli ritagliare i video e permette anche di creare come dicevamo prima moltissimi progetti come poster storie di instagram pin di pinterest volantini brochure e molto altro queste due sezioni sono molto utili perché ci permettono di andare a selezionare direttamente quello che vogliamo fare e svolgere quell'operazione nello specifico questa è la schermata di editing di un'immagine come è possibile vedere dal menu qui a sinistra si possono svolgere molte operazioni come per esempio andare a scegliere il layout se non è stato fatto in precedenza caricare delle proprie immagini attingere dei templates e molte altre cose ogni volta che si aggiunge poi un'immagine al centro queste poi appariranno in questo menu di destra e questo permetterà di andare a modificare la singola immagine senza compromettere l'intero progetto per modificare i singoli elementi pixart mette a disposizione una serie di strumenti che si trovano nella barra qui in alto questa invece è la schermata di editing dei video come è possibile notare nel menu qui a destra si possono aggiungere diverse clip caricandole dal proprio pc oppure aggiungendo anche foto o video dalla libreria di pixart sarà possibile tra una clip e l'altra aggiungere delle transizioni e poi andare ad aggiungere anche audio e testi in pixart è quindi un'applicazione molto semplice da utilizzare che permette di svolgere moltissime operazioni come abbiamo visto e di adattarle anche in base alle proprie esigenze quindi di scegliere il formato che ci interessa in modo tale da poterlo postare poi sui social media il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti